buongiorno a tutti abbiamo buone notizie la Lidl lancia infatti un nuovo modello di Messier Cuisine si chiamerà Messier Cuisine Smart e sarà un upgrade dei vecchi modelli Messier Cuisine Plus e Connect questo prodotto verrà lanciato il 6 dicembre nei Lidl francesi vi illustro le principali caratteristiche e le principali novità di questo nuovo modello innanzitutto avrà uno schermo da 8 pollici più reattivo potrà essere usato tramite comando vocale con l'assistente google avrà una nuova impugnatura ovvero un unico manico che sarà possibile impugnare con una sola mano la cosa fondamentale è che avrà un motore molto più potente con i suoi mille watt infatti ci consentirà di poter lavorare il doppio dell'impasto non più i vecchi 500 grammi di farina ma bensì proprio il doppio la cottura videoguidata sarà un'altra delle novità alcune ricette infatti avranno questa funzione e potranno essere adattate e personalizzate si potranno creare liste della spesa si potranno fare delle pianificazioni settimanali si potranno personalizzare le ricette e adere avere dei criteri di filtraggio migliorati anche per quanto riguarda le funzioni ci sono tante novità sarà possibile fare lo slow cooking ovvero la cottura lenta sarà possibile cuocere le uova preparare frullati e persino cuocere sotto vuoto anche le vecchie funzioni vengono però mantenute quindi si potrà comunque rosolare cuocere a vapore impastare mescolare frullare ed emulsionare ci sono circa 600 ricette precaricate nel nostro nuovo Messier Cusing Smart e con esse si possono avere sempre le istruzioni passo passo in più ci saranno delle funzioni wifi che potranno consentire di scaricare addirittura 15 ricette gratis al mese altro elemento fondamentale è la ciotola che passa da una capienza di 3,5 litri a ben 4,5 litri è sempre presente la bilancia integrata le 10 velocità di funzione e la temperatura regolabile da 37 a 130 gradi il timer prevede sempre 99 minuti e gli accessori in dotazione sono i medesimi anche se la spatola avrà una punta in silicone rimovibile il prezzo è comunque un prezzo vantaggiosissimo costerà 399 euro e speriamo di trovarlo presto in italia quindi vi terremo aggiornati se ci saranno delle dei lanci in italia oppure se avremo delle novità su come fare per poterlo acquistare online incrociamo le dita e speriamo che arrivi presto da noi continuate a seguirci sul nostro canale in cucina con Messier sul sito www.messiericette.it e sul gruppo facebook Messier Cusing Connect e Plus Italia in questo modo resterete sempre aggiornati e buona cucina a tutti